Il mio nome è Daniel Telli, sono crescita in Trin, qui in Vici, in confine linguistiche, in Cortevon Flemme. In casa ho in ingegnato Romonti in Trin, e in scuola ho imprimo Sursilvano. Adesso per quel video che ho, di scuola io, è Sursilvano, forse che ho Mildluntichi in Romonti in Trin, sono crescita in una famiglia di Purs, faccio le scuole in Trin, sono studiato in Trin, nordistica, in inglese, e ho imprimo circa 1997, e ho imprimo Romonti in scuola linguistica, scuola linguistica. Adesso ho raccontato un po' della lavourca, faccio le scuole, adesso ho raccontato messi hobbis, in cui è unico che legge il bia, e ho ammè il bia e buc'è un po' la pelle. Per le romance ho lavorato da circa 15 anni, e ho avuto diverse incumbenze, e poi in termini ho usato la partizione linguistica. ci sono un po' di trasmissioni, ci sono un po' di lettura, ci sono informati, ci sono un po' di linguaggio, ci sono un po' di referati, ci sono un po' di risposta, ci sono un po' di e-mails, ci sono un po' di lavoro di Pledarigrono, ci sono un po' di lavoro di Pledarigrono, ci hanno scusato una quattro un po' di lingue lingua di linguistica, ci sono un po' di lingue vocabulario di idioma, in cui si no esciano ai cuo di lingue vocabulario di linguistica. Abbiamo tito di lingue, di lingue vocabulario di idioma sistemi per le lingue sagge, che si trova all'euro legge, la lingue vocabulario di lingue bia. con i proiecti culturali, con il nostro know-how, con i nostri contatti. Abbiamo una partecipazione precedente con la scuola, con tutti gli aspetti che faccio con la scuola, con la politica della scuola. Per il Maracchior-Montsch venivo alla corte. Inoltre ci sono i nostri regioni che sono molto importanti, con i nostri collaboratori regionali, con i nostri amici, con il impulso, con i nostri amici, con i nostri amici, con i nostri amici, con i nostri amici, con i nostri amici. E' questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione, e spero che... No, sorry, sorry. È ok, no worries. Grazie per la vostra attenzione, e spero che... Grazie. 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 Grazie.